A Ludovico e suo papà piace molto passeggiare in campagna. È autunno, il terreno è ricoperto di foglie, è il momento migliore per guardarle. Ma cosa c'è di interessante? Il papà dice che è un nido di Gaza, un uccello con la coda lunga e di colore bianco e nero. In autunno è facile vedere i nidi, gli alberi non hanno le foglie. Il papà di Ludovico fa l'incisore. È un lavoro che gli piace molto e che richiede molta pazienza. Per prima cosa mette una cera liquida speciale su una lastra di zinco. Poi appoggia la lastra su due fili di ferro per annerirla col fumo. Usa una candela speciale composta da tante candele attorcigliate per avere una fiamma più grossa. È così che la lastra diventa nera con il fumo della candela. Dopo aver lasciato indurire la cera, la lastra è pronta per essere incisa. Con una punta di metallo, il papà di Ludovico inizia l'incisione. Per questo lavoro ci vuole molto tempo. Dei giorni, delle settimane, perfino dei mesi. Natale Davide Ludovico viene a vedere a che punto è il lavoro. Il suo papà è un bravo incisore, ha fatto molti quadri con le sue incisioni. Il suo papà è andato via un momento, Ludovico ha deciso di fargli una sorpresa. Ha pensato di incidere sulla lastra un uccello. Una Gaza gli piacerà senz'altro. Al papà la Gaza piace, così continua il lavoro. L'acido immerge la lastra in un liquido che si chiama acido nitrico. L'acido corrode, scava i segni fatti con la punta di metallo. Dove c'è la cera invece l'acido non può penetrare. Usa i guanti di gomma perché l'acido fa male alla pelle, inoltre è velenoso. Poi lava la lastra nell'acqua e pulisce via la cera. La lastra ritorna lucida come all'inizio. È pronta per la stampa. Per stampare ci vuole l'inchiostro. Il papà di Ludovico lo spalma sulla lastra che ha inciso. Con un grosso tampone fa entrare bene l'inchiostro nei segni scavati dall'acido nitrico. La lastra viene pulita in modo che l'inchiostro resti soltanto nei segni scavati dall'acido. E ora finalmente si può stampare. La lastra deve essere ben diritta e diritto deve essere anche il foglio di carta umida che viene appoggiato sopra. E sopra la carta ci vuole un feltro che, essendo morbido, aiuta la carta a schiacciarsi nei segni quando passerà sotto il pesante rullo del torchio. È arrivato il momento più emozionante. Sarà riuscita bene la stampa dell'incisione di Ludovico e il suo papà? Sembra proprio di sì. Un'incisione come questa si chiama acqua forte.